Torna l'attenzione su una delle paure più antiche, legata ad uno dei predatori ancora a pinna libera nei nostri mari, lo squalo. Forse Spielberg, con i suoi tre meritatissimi Oscar per il film, che ha condizionato l'immaginario collettivo su questo mostro degli abissi, ha un pochino aiutato. Ma questa volta le immagini pervengono senza regia e l'ultimo avvistamento sarebbe riconducibile a largo nella zona compresa tra Cauloni e Riace, nella cosiddetta fossa dell'Allaro, che raggiunge profondità elevate. Si tratterebbe di verdesca o squalo azzurro, appartenente alla famiglia dei carcarini dae, che abita in acque profonde temperate e tropicali in tutto il mondo. Le immagini registrate da giovani pescatori proprio nel mare davanti a Riace denotano come lo squalo azzurro si avvicini tranquillamente alle imbarcazioni. Si nutrono principalmente di pesci e calamari, anche se possono catturare prede più grandi. Spesso si muovono in banchi divisi per dimensione e sesso. Sulla pericolosità di questa specie non ci sono dubbi, attaccano l'uomo raramente e fino al 2014 sarebbero stati registrati solo 15 attacchi provocati con 4 morti. Ma è già psicosi da squalo. Che negli ultimi decenni, lentamente ma inarrestabilmente, il clima nel nostro paese sia mutato è indubbio. E che ciò abbia inesorabilmente cambiato gli equilibri di flora e fauna, ressomigliandoci sempre di più ai paesi tropicali, è cosa già detta. Quello che potrebbe essere invece taciuto sono i motivi che spingerebbero questo predatore sempre più spesso nelle nostre acque. Chiamarlo pesce è riduttivo, questo cartilaginoso predatore, però non è sempre pericoloso per l'uomo. Occorrerebbe essere più informati in materia, anche se, comprensibilmente, nello sventurato caso di un incontro ravvicinato con uno di questi fascinosi esemplari, non lascerebbe il tempo o l'interesse nell'uomo di verificarne la specie d'appartenenza o l'indice di pericolosità. Un dato scientifico certo è sicuramente l'aumento di afflusso degli squali nel periodo da maggio a settembre, periodo di riproduzione delle loro prede, o della loro preferenza per le aree vicino alle secche, agli stretti o alle isole e canali, in quanto è più facile reperire il cibo. Comunque possiamo stare tranquilli, quest'ultimo avvistato sarebbe piccolino, meno di un metro, niente se paragonato ai 2,30 metri di quello del 2010, dei 130 chili scorrazzanti tra Catanzaro e Crotone.